Bene, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti, vediamo cose incredibili che dicono i narcisisti e che ti lasciano senza parole. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi su tutti i miei social, se vuoi fare una piccola donazione al canale basta scrivere sotto il video, clicchi sul tastino, super grazie, se vuoi abbonarti basta che vai in un page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare vedi con il computer. E veniamo al tema, cose incredibili che dicono i narcisisti e che ti lasciano senza parole. Allora, i narcisisti spesso dicono delle cose incredibili che possono lasciare senza parole, tieni presente che però queste cose che dico non possono essere utili per permetterti di identificare i narcisisti stessi. Cioè, se tu identifichi i narcisisti, praticamente fai un passo avanti, perché è soltanto capendo che hai a che fare con persone estremamente negative, che comunque non ti potranno mai dare affetto, non ti potranno mai dare amore, questa è l'unica cosa che deve darti la forza di guardare oltre, deve darti la forza di andare avanti, altrimenti ne patirai le conseguenze. Quindi questo è un punto molto importante che tengo a sottolineare, devi cercare assolutamente di evitare di lasciarti incastrare da situazioni negative, nefaste, che non ti portano a nessun beneficio. Le cose incredibili che dicono i narcisisti sono Ah, non posso credere che tu non ti rendi conto di quanto sei fortunato ad avermi conosciuto o conosciuta, non posso credere che tu non ti rendi conto di quanto sei fortunato ad avere a che fare con me, insomma, in tutte le, cioè, le salse che tu vuoi ti dicono questa cosa. Come fai a non capire la grande fortuna, il grande, come dire, beneficio che tu hai ad avermi conosciuto, insomma, quindi questo è quello che i narcisisti in qualche modo mantengono sempre, cioè ti fanno credere che tu sei, diciamo, praticamente un coglione o una cogliona se non capisci quanto loro sono la persona migliore per te, la persona che veramente nessuno può capire quanto sono importanti, quanto sono fantastici, e questo devi tenere presente. Un altro, e questo ti lascia ovviamente scioccato perché dici, ma che cavolo è possibile. La seconda cosa è l'autoelogio, i narcisisti spesso si autoelogiano, no? Non c'è nessuno al mondo che sia più bello, più brillante, più intelligente, più colto, più famoso, più... Insomma, chi si loda si imbroda, questo dobbiamo tenerlo presente. E poi, tieni presente che un'altra frase, che dicono sempre, questa è veramente sconvolgente, che però devi tenere in considerazione, perché la dicono abbastanza spesso, è non ti preoccupare, io so sempre quello che è meglio per te! Io so sempre quello che è meglio per te! Sembra pazzesco, sembra clamoroso, eppure dicono questa frase. E poi, un'altra cosa che spesso dicono i narcisisti è quando tu magari, qualunque cosa fa, sei solo geloso di me perché non puoi avere una vita bella come la mia. Come se loro avessero una vita fantastica e che tu però non puoi avere perché sei un poveraccio, una poveraccia sfigata. Ci sono altre cose, non mi interessa il tuo punto di vista. Tanto nella nostra relazione io ho ragione, quello che conta è quello che penso io. Insomma, una caratteristica del narcisista non è quella di dire io penso questo, che poi sarebbe anche legittimo, tu pensa quello che vuoi, io rispetto la tua opinione, ma però ho il mio pensiero. No, questo sarebbe logico. Invece il narcisista dice no, quello che pensi tu non conta la mazza, perché io penso anche per te e il mio pensiero conta per me e per te. Quindi questo è un altro punto. Poi ci sono delle altre frasi deliranti, no, che ovviamente non stanno né in cielo né in terra, tipo la frase in cui il narcisista dice Eh, io non ho mai sbagliato nella mia vita, io non ho mai sbagliato nella mia vita. Eh, chi è che non ha mai sbagliato? Eppure i narcisisti dicono quello, io non ho mai sbagliato nella mia vita. Un'altra frase che tendono a dire sono così speciale che le regole che valgono per te non valgono per me. Le leggi e le regole, quelle sono per te, che sei una cretina. Questo è un altro punto, un altro punto fondamentale. Tieni presente che i narcisisti impongono le loro regole agli altri, ma ad esempio nelle relazioni non vogliono rispettare nessuna regola. Per esempio, per loro è lecito naturale, è anche giusto farti le corna, riempirti di corna. Però assolutamente vietato, come possiamo dire, per te. Anche solo pensare di poter fare qualcosa. Ecco, quindi questo è, come dire, un doppio peso e una doppia misura. Poi, sempre nella serie elogiamo la tua fortuna. Ah, sei così fortunato che io sia tuo amico, che io sia il tuo partner, che io sia il tuo collega. In tutte le salse tieni presente che questo fanno i narcisisti. Un'altra frase che spesso dicono, che è poi una proiezione di quello che fanno loro, praticamente, tutti mi invidiano, ma è normale, io sono il migliore. Tutti mi cercano, ma è normale, io sono il migliore. E poi, quest'altra frase, che è anche un po' squalificante verso di te o verso gli altri, le persone come te non possono capire il mio livello di genialità. Questa è un'altra frase che spesso i narcisisti utilizzano proprio per squalificare le altre persone. Queste sono alcune, diciamo, delle frasi che queste tipologie hanno, che i narcisisti utilizzano o persone simili. Hanno in comune un atteggiamento egocentrico, un atteggiamento arrogante, che caratterizza un po' questi tipi di persone. È importante ricordare che queste frasi, diciamo, sono spesso il risultato di un'illusione di grandezza, perché di fatto si tratta di un'illusione e di una mancanza di empatia verso gli altri. E quindi, come dico sempre, a queste persone è meglio lasciarle nel loro bordo e fare un no contact, si ne die. Bene, metti un like, che tanto non ti costa niente, così facciamo girare il video. Seguimi su tutti i canali, ovviamente, YouTube, su tutti i social, e iscriviti al canale attivando la campanella, perché se attivi la campanella potrai, diciamo, ricevere le notifiche dei nuovi video. E ovviamente, se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, tastino super grazie. E poi puoi anche abbonarti al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati.